Cari amici, pacatamente, come sempre, come di consueto, la solita rubrica giornaliera quotidiana Care teste di CAS, dove CAS fa rima con PAS, vacciniste vicine e lontane Un confronto dei numeri Oggi è il 27, venerdì 27 L'anno scorso, naturalmente, nell'agosto 2020, il 27, il giorno 27 era un giovedì Non ho il numero preciso delle terapie intensive Perché a volte i dati sono un pochino più incompleti, ma stavano sui 69, 70, 72, 73 Entro questi valori, una settantina E oggi sono, vaccinando, sono 511 Quindi abbiamo sempre la moltiplicazione per 7 e più volte Ancora più interessante, perché i numeri parlano chiaro, il dato dei decessi Agosto 2020, il 27, abbiamo avuto soltanto 5 decessi Quindi un numero fortunatamente assai contenuto 5 decessi Purtroppo quest'anno e quest'oggi, agosto 2021, 27 e venerdì Va molto peggio, continua ad andare molto peggio Perché i decessi sono 45 E nonostante questi 45 decessi, quindi un numero di una certa entità Purtroppo anche le terapie intensive continuano a salire di 8 unità Perché alla fine poi anche questo è un parametro importante Ma vedete, da 5 decessi senza vaccini a 45 Quindi i decessi sono moltiplicati per 9 Certamente c'è la variante delta Ma le varianti come sono nate? È il solito discorso Garavelli, il professor Garavelli Lo aveva detto subito E non solo lui, naturalmente Mai vaccinare nel primo anno di epidemia Lo spiegano all'inizio del corsi Universitari Però si è voluto forzare E adesso purtroppo i dati della campagna vaccinale Danno questi numeri Siamo sempre ad agosto, naturalmente E che dire Pacatamente, pacatamente, pacatamente Da buon ex complottista Che per definizione è colui o colei Che ha visto meglio e prima degli altri Anzi coloro che hanno visto prima e meglio degli altri Perché eravamo in tanti A sostenere certe cose Ad avere certe opinioni E ora La verità emerge E siamo solo all'inizio Che dire Viva l'Italia Viva la Costituzione E i numeri Parlano da soli Pacatamente Alla prossima videopillolina Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti